... Quelli che passano in macchina e che dicevano che la moglie vivono Quindi è il seno di questo cazzo Quello da dove viene? Se questo è il dubbio, è che io non ci credo che è il dubbio Perché è un'ora che sta a fare di quella portata Quest'altro da dove viene? Volete una cucinata in bocca a tutti quanti? O se fa fante di qualcuno di che è vero? Io sto a parlare di cose seri qua Lo sto a fare uno scherzetto così Perché poi se esplode, è peggio di una cucinata Se esplode un vulcano, la cucinata non è niente Si crampigli di una mignota No quelli che stanno, se c'è qualcuno a lavorarla Quelli che hanno visto tutti questi video Nessuno si è fatto davanti Per dire Stanno a fare vino Stanno a fare i cazzi loro C'hanno la raffineria di droga A me non mi frega un cazzo della raffineria di droga A me non mi frega un cazzo della raffineria di droga Stanno a fare i cazzo della raffineria di droga Stanno a fare i cazzo della raffineria di droga Grazie a tutti. 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 Eh? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.